La Nissa vince contro una Parmonval decimata da squalifiche e infortuni al Palmintelli. Risultato finale 4-0 e la squadra di casa avrebbe potuto mettere a segno il quinto gol, opportunità sciupata nel finale su penalty. Esordio positivo per l'allenatore Davide Boncore, giunto a Caltanissetta pochi giorni fa, dopo l'esonero di Alessandro Settineri. Bastano sette minuti ai biancoscudati per passare in vantaggio e a Zara superare l'estremo difensore ospite lanciato da Ortiz. Fragile la resistenza degli ospiti al secondo affondo della Nissa, che al quattordicesimo raddoppia con Coulibaly. Nella ripresa, al quinto, i giovani della Parmonval subiscono il terzo gol, siglato da Zara, autore di una doppietta. Alla mezz'ora il poker è servito da Morales, che fissa il punteggio sul 4-0. A dieci minuti dal novantesimo, calcio di rigore per la Nissa, Ortiz dagli undici metri non supera il portiere palermitano. A fine gara, aria di grande festa tra i nisseni per il primo acuto. I risultati del girone A di eccellenza. Casteldaccia, Acragas 1-1, Don Carlo, Gela 2-2, Enna, Cuspalermo 3-1, Leonfortese, Mazzarese 0-1, Mazzara, Profavara 2-1, Nissa, Parmonval 4-0, Resuttana, Castellammare 1-3, Sciacca, Oratorio, Marineo 3-1. La classifica, Sciacca 12 punti, Acragas e Denna 10, Don Carlo e Mazzarese 8, Casteldaccia e Mazzara 7, Cuspalermo e Profavara 6, Nissa e Parmonval 4, Castellammare 3, Oratorio, Marineo 2, Leonfortese e Gela 1, Resuttana 0.